Ciao e benvenuti in questo nuovo video dove vi mostro come registrare lo schermo di un PC con Windows 10 senza utilizzare nessun tipo di programma. Dopo la sigla il tutorial completo e nel frattempo vi invito a iscrivervi per supportare il canale e magari potreste lasciare anche un bel like. Molti non sanno che in Windows 10 si trova un tool che permette di registrare lo schermo e l'audio del PC. Basta andare in Start, Impostazioni e andiamo su Giochi perché ovviamente questa applicazione è nata per il gaming e dobbiamo avere attivato qui sopra Registra clip di gioco. Dobbiamo selezionare anche qui Apri bar dei giochi. Qui troviamo le varie scorciatoie da tastiera. Troviamo anche la scorciatoia per acquisire solo l'immagine dello schermo quindi lo screenshot. Abbiamo quella che ci permette di fare la registrazione rapida e altre funzioni varie. Inoltre dovete andare anche su acquisizioni qui e dovete attivare Registra in Background mentre sto utilizzando un gioco. Registra persino quando il mio PC non è collegato e tutte queste impostazioni come state vedendo adesso devono essere attive. Qui dovete scegliere se volete registrare a 30 fps o 60 fps. La qualità video standard o elevata e queste sono le impostazioni che dovete attivare. Successivamente basta premere la combinazione di tasti Win e G dalla tastiera proprio come vedete dalle frecce e compariranno così una serie di finestre che ci permettono di catturare lo schermo del pc. Io ho dovuto fare uno screenshot per spiegarvi un po' le funzionalità perché quando registrate queste finestre diventano trasparenti. Iniziamo dalla finestra principale dove è possibile iniziare la registrazione del video, fare degli screenshot, attivare e disattivare il microfono e registrare gli ultimi 30 secondi. Ovviamente queste stesse operazioni le potete fare anche attraverso le scorciatoie della tastiera. Poi abbiamo la finestra audio che ci permette di tenere sotto controllo l'audio e i programmi che utilizzano il microfono. Mentre la finestra prestazioni permette di tenere sotto controllo le prestazioni hardware come la CPU, GPU, la RAM e anche gli FPS, comoda quindi per chi fa gaming. Infine abbiamo la barra delle impostazioni dove è possibile settare le varie impostazioni come far scomparire la finestra prestazioni o quella audio o quella acquisisci ma è possibile cambiare anche altre impostazioni. Infine per chiudere tutte le finestre vi basterà ripremere Win e G. Se avete apprezzato questo tutorial potete ricambiare iscrivendovi al canale. A voi non costa nulla ma per me sarebbe un grande gesto perché mi aiuterebbe a crescere. Magari potreste lasciare anche un bel like. Se avete qualche domanda la potete fare nei commenti e non mi resta che salutarvi e ci becchiamo al prossimo video.